Desidero annunciare che dal 19 al 24 marzo 2018 è convocata dalla Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi una reunione presinodale, a cui sono invitati giovani provenienti dalle diverse parti del mondo, sia giovani cattolici, sia giovani di diverse confessioni cristiane e altre religioni, o giovani non credenti. Questa iniziativa si inserisce nel cammino di preparazione della prossima Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi, che avrà per tema i giovani, la fede e il discernimento vocazionale nell'ottobre del 2018. Con tale cammino, la Chiesa vuole mettersi in ascolto della voce, della sensibilità, della fede e anche dei dubbi e delle critiche dei giovani. Dobbiamo ascoltare i giovani. Per questo le conclusioni della riunione di marzo saranno trasmesse ai padri sinodali.